Amichi buongiorno, 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 amichi salve, salve, allora ci siamo spostati, eravamo prima a Davigliana, qua si mangia sempre, adesso siamo... Uno su Youtube ha detto non è educato mangiare mentre parli, facciamo così, non mangiamo mentre parlo, parlo mentre parli, ma scorreggio mentre parli, no, dai, e qua ci sono anche gli elementi, loro stanno facendo la loro diretta, cioè diretta nella diretta dopo di giorno, siamo al centro Camberlodi, ora ci andiamo a vedere blu, centro Camberlodi, per l'inaugurazione della nuova sede, del nuovo paviglione, quindi allora, presentiamo il padrone di casa, ecco, ci sei, buonasera, vai Lidia, vai là, vai là e pensaci tu. Buonasera, sono Luigi Torri, se io non sono pronto, loro mi conoscono, vai tranquillo, Chi sei? Che cosa facciamo qua? Ok, siamo nella nuova sede del centro Camberlodi, dove abbiamo praticamente triplicato gli spazi dedicati all'officina, quindi da 110 metri quadri a 290, abbiamo fatto un nuovo showroom e sempre soliti servizi di vendita, rimessaggiano le giocate. Perfetto, abbiamo infatti intravisto un camper infiltrato da sotto, le state, praticamente rifacendo tutte le pareti laterali, più la parete posteriore, che ovviamente l'infiltrazione era... Quindi un'officina preparata ad affrontare un lavoro del genere senza problemi. Sì, ci siamo strutturati, ci siamo strutturati. Ho visto che ci sono sia camper nuovi in vendita, che usati, una bella roulotte quasi nuova, usata una volta, una volta, quindi ci sono... Un'occasione fantastica. Ma non vediamo il solbio, e questa è una cosa molto grave, che non c'è il solbio... Sai cos'è il solbio? Sì. Perfetto, ecco. Allora, poi la prossima volta che torniamo ci sarà. Ci sarà sicuramente. Perfetto, allora adesso noi andiamo di nuovo a furiosare, ti ringraziamo, ti auguriamo un buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi. Comunque sarete aperti per il porto aperto fino a che ora? 18.30. Fino alle 18.30, quindi ormai la roba da mangiare se la sono mangiata tutta, quindi... E io ho sempre fatto il bucris che ha mangiato, ha fatto tutto, quindi... Andiamo ora a furiosare un po' in giro, vi portiamo un po' in giro e poi vi salutiamo. Grazie ancora, ciao. Grazie, buon lavoro, grazie. Allora, tu cosa dicevi prima? Questo è il meraviglioso uomo che ci ha montato il bevasto, avrà la nostra gratitudine eterna. Che vi ha salvato la vita. Ci ha salvato il sedere del freddo. E' una meraviglia, un bagno così caldo non l'abbiamo mai avuto, ed è merito loro. Bravo, hai visto? Questa è una bella... I clienti soddisfatti. Bravo, che è la cosa fondamentale. Quella è la pubblicità migliore, il cliente soddisfatto è sicuramente la pubblicità migliore in tutte le occasioni. E beh, vai, vai. Allora, andiamo a vedere, vieni con me, andiamo a vedere. Io mangio prima. Tu mangi, va bene. Allora, andiamo a vedere, qui c'è tutta la zona market, il caffè c'è e quindi è una cosa perfetta. Continuiamo ad andare a vedere, vediamo il Bubris dov'è, dove ci sono i lavori di blu. Qua stanno vendendo, c'è la presentazione degli altri camper. Il Bubris dov'è? E' un attimo sul suo camper. Ma dov'è? La Pilla. La Pilla, bella indicazione, la Pilla. Qua ci sono altri camper, dove ci sono le lavorazioni. Vediamo se riusciamo a beccare il Bubris con la... Perché è blu, dovete sapere che per ora è qui in manutenzione. Allora, vediamo cosa ci dice. Blu, in che condizioni stava? E' là, andiamo facendo il lavoro lì. Io stavo prendendo un pezzo di guardaroba, guardaroba per una settimana. Per una settimana? Per una settimana questo è il guardaroba. Perfetto, va bene. E quindi comunque respira. Respira ancora, sì respira. Ti ha riconosciuto. Ti ha riconosciuto è la cosa fondamentale. Va bene, come vedete qui ci sono tantissimi camper, lì ci sono i nostri, dove siamo appena arrivati. Poi stasera ci sposteremo ancora. Vediamo se riusciamo a vedere blu perché sta facendo dei piccoli lavoretti si sta imbellendo un pochettino, si sta facendo un po' più bellino. Vediamo se è questo qua, blu. Eh sì, è lui, blu qua, in lavorazione. Tranquillo. E sono qua dove c'è blu che è in attesa. Già comunque sono iniziati i lavori. Eccolo qua, il blu del Brubis. Eccolo qua. Quindi fra qualche giorno poi glielo daranno. Va bene, noi a questo punto vi salutiamo dal centro Camperlodi. Vi diamo appuntamento a più tardi perché poi più tardi ci sposteremo da un'altra parte e vi faremo sapere cosa andremo a vedere. Seguiteci e buona strada a tutti. Ciao!